Oggi, sabato 3 febbraio, ore 16, un momento importantissimo. Vi voglio tutti in Consiglio Comunale, voglio tutta la città in Consiglio Comunale, perché discuteremo e voteremo la mozione di sfiducia che io e il collega consigliere Massimo Battista abbiamo presentato in Consiglio Comunale, raccogliendo in totale 13 firme. Dobbiamo mandare a casa questo signore. L'ho buttato a terra, metaforicamente ovviamente, ma meriterebbe di stare a terra, sempre politicamente parlando. Beh, una città fallimentare, una città resa fallimentare da Rinaldo Melucci e dalla sua amministrazione, da coloro i quali governano, amministrano e da coloro i quali hanno amministrato con lui, da sette anni a questa parte. È un momento importante. Si voterà. Si voterà questa mozione di sfiducia. E voglio che la cittadinanza tarantina sia presente per guardare in faccia i consiglieri, a uno a uno, perché ci sarà l'appello nominale e il successivo voto, e perché ogni consigliere ci metta la faccia. Così i tarantini sapranno chi è serio, chi è giuda e quindi traditore. Vedremo cosa accadrà. Dobbiamo mandarlo a casa, dobbiamo mandarlo via, dobbiamo liberare Taranto. I cittadini devono vedere tutto questo. In consiglio comunale. Il consiglio comunale è la massima assise cittadina, rappresentativa appunto, di 180.000 abitanti. E allora tutti in consiglio comunale. Riprendiamoci Taranto. Dovete guardare in faccia i consiglieri. Dovrete giudicarli, anche in occasione delle prossime elezioni. Ma la prima cosa, la più importante, è sfiduciare questo Signore. Vi aspetto in consiglio.